Ciao a tutti, vi leggo alcuni dati. L'inflazione sfiora il 12% ad ottobre, è il valore più alto degli ultimi 40 anni, era dal 1984 che non vi erano valori analoghi relativi all'inflazione. In un mese i prezzi sono saliti del 3,5% spinti da alimentari ed energia. Pubblicati anche i dati dell'inflazione in Francia, aumentata ad ottobre. In Francia si è passati dal 5,6% di settembre, comunque circa la metà rispetto ai dati italiani, al 6,7% di ottobre. Una tragedia in Francia, un'apocalisse in Italia. Ora, io credo di essere stato tra i primi, nove mesi fa, quando è partita l'invasione russa dell'Ucraina, a sostenere che la strategia europea e soprattutto italiana, guardate anche i dati dell'Italia rispetto ad altri paesi europei, fosse fallimentare. Uno, perché ho sempre ritenuto le sanzioni nei confronti della Russia poste e spinte dagli americani per fare altro, non con l'obiettivo di raggiungere un cessato del fuoco il prima possibile o neppure di buttare giù l'economia russa. Ho sempre detto, occhio che è difficile buttare giù il paese più grande del mondo dal punto di vista economico, per mille ragioni. Ragioni storiche, ragioni legate appunto al loro passato, alla memoria collettiva di un popolo. Ragioni relative a quello che loro producono. Sono un paese autosufficiente dal punto di vista alimentare, che produce, probabilmente è il primo produttore al mondo di fertilizzanti. Il primo paese al mondo per riserve idriche di acqua dolce. Un paese autosufficiente dal punto di vista energetico. Un paese anche i cui cittadini sono più abituati di altri a sofferenze. Negli anni 90 i supermercati erano veramente vuoti, era il crimine organizzato dovunque. E io ho sempre detto, occhio che sanzioni e controsanzioni, perché poi i russi applicano le controsanzioni, possono essere, le possiamo subire più noi? Sei un cretino? Mi è stato oltre a Putiniano. Oltretutto quando io dissi, dopo due mesi in Russia, stiamo attenti che qui l'inflazione c'è, però non si avverte come in altre realtà a livello mondiale? Sono stati insultati. Mi è stato detto, leggiti i dati, danno l'inflazione al 7, mentre lì viaggia verso il 12, il 13. Ecco, oggi l'inflazione in Italia è al 12. Tra l'altro dobbiamo comprendere che l'inflazione, che è una sorta di media dell'aumento di prezzi, fotografa sì lo stato di un paese. Tuttavia vi sono determinati prodotti che non possiamo non acquistare, perché sono necessari per la nostra sussistenza, il cui prezzo in Italia è aumentato decisamente di più del 12% dell'inflazione. Pensate al latte, che è aumentato penso del 35%, della farina, dell'olio di semi, ma basta andare a fare la spesa. Chi va a fare la spesa? Io faccio la spesa ogni settimana, più volte a settimana, sa perfettamente quello di cui sto parlando. In Russia è evidente che l'inflazione, non ho i dati degli ultimi due mesi, comunque galoppava, ma soprattutto sono aumentati, aumentavano e aumentava il costo di prodotti non sempre indispensabili, mentre banalmente, mentre io ero in Russia, la benzina, il cui costo ovviamente varia da luogo in luogo, anche in Italia varia da regione a regione, alle volte, figuriamoci, all'interno del paese più grande al mondo, il cui non solo 80% del periodo russo si trova in Asia, figuriamoci. Comunque nei due mesi in cui, durante i quali appunto io ho visitato la Russia, il costo della benzina ha diminuito, mi pare che passò da 62-63 rubli al litro a 57-58 rubli al litro. Il tema è la tragedia che stiamo vivendo in Italia, perché l'inflazione al 12% è il caro carrello, ma comporta una sofferenza quotidiana per centinaia, milioni di famiglie, che è sconvolgente. La maggior parte, qua si sta parlando ora di tutte queste, scusate il termine, minchiate rispetto alla problematica principale che è la guerra in Ucraina e le conseguenze della guerra in Ucraina, come il tetto del contante 10.000 euro, e per me poi non faranno mai, il fascismo e l'antifascismo, attaccare la Meloni perché si fa chiamare il presidente e la presidenta, io non lo so, tutto questo, oltre in un certo senso a favorire, ad allungare la luna di miele legittima che qualsiasi governo che si insedia da poco ha il diritto di vivere, perché comunque si sono appena insediati, non è che possiamo attaccare la Meloni e il governo Meloni, possiamo avere dei dubbi rispetto a alcune parole, io ce li ho, e ora ne parlerò, rispetto ad alcune nomine, alcune scelte, alcuni ministri, per l'amor di Dio, ma passare ore ed ore a parlare del nome di un ministero senza renderci conto che qui il problema della natalità non è un problema relativo a un nome, ma relativo al costo della vita, l'impossibilità di metter su famiglia per la maggior parte dei cittadini italiani, e da lì poi viene il fenomeno, chiamiamolo anche nel modo giusto, quasi di un'estinzione del popolo italiano, perché se vi leggete i dati relativi, l'Istat li ha pubblicati, relativi alla natalità nei prossimi 50 anni, ma qua c'è veramente il rischio che nei prossimi 50 anni non ci saranno 12-13 milioni di italiani, cioè gli abitanti di tutta l'Italia saranno più o meno gli stessi abitanti di Shanghai e provincia, questa è una tragedia epocale, questa dell'inflazione è qualcosa che andrebbe, della quale dovremmo parlare quotidianamente, senza farci distrarre anche, senza abboccare, perché si tratta proprio così, abbocchiamo, a delle scelte di alcuni partiti politici che non hanno alcuna strategia per fronteggiare questo dramma e che continuano a parlare della guerra in Ucraina parlando esclusivamente di più sanzioni e più armi, e lo stesso sta facendo la Meloni, poi se non lo so, tra tre mesi dovesse cambiare strategia, io questo non lo so, so che ad oggi non ha fatto altro che rassicurare Nato e tecnocrazia europee, la sovranista, non ha fatto altro che parlare della Nato come grandissima organizzazione che ci tutela e che ci difende, ma quando mai, se la Nato di fatto ha riportato anche la guerra in Europa dopo la seconda guerra mondiale in poi, mi riferisco ai bombardamenti su Belgrado, quando la Nato si è trasformata dopo il crollo del patto di Varsavia in un'organizzazione da difensiva in offensiva, guardate le guerre che sono state di fatto decise dalla Nato in giro per il mondo negli ultimi trent'anni, e che oggi il mondo è più sicuro, io mi sentirei più sicuro oggi con meno Nato, anche perché io penso che più Nato significhi meno Europa, l'ho sempre detto, la Meloni immediatamente ha parlato con Stoltenberg, ha rassicurato determinati poteri, ha fatto capire che lei su determinate questioni andrà dritta, seguendo in maniera totale la linea di Draghi, di Maio Letta e compagnia cantante, e probabilmente determinate polemiche relative al fascismo, ai busti di Mussolini in casa la russa, ai nomi dei ministeri, alle declinazioni di determinati ministri, eccetera, eccetera, tutto questo giova al governo stesso, perché anziché inchiodarli posto che hanno di stradiritto a del tempo, anche se di tempo ve ne è poco, e questo anche in virtù delle enormi responsabilità del governo Draghi, e anche dei trombettieri del governo Draghi, di tutti coloro che l'hanno sostenuto, e anche di tutti i partiti che hanno votato il primo invio delle armi, escludendo automaticamente l'Italia, di fatto dalla possibilità di giocare un ruolo di negoziatore, che tra l'altro le spetta in un certo senso, o le avrebbe spettato di diritto, per i rapporti che vi sono sempre stati tra l'Italia e la Russia, ancora prima che vi fosse la nascita della Federazione Russa, durante l'epoca sovietica. Io lo ricordo spesso, i rapporti incredibili che vi furono tra Italia e Unione Sovietica, appunto, vi furono durante il periodo della Guerra Fredda, quando Mattei, Enrico Mattei, lo si ricorda, la Meloni l'ha ricordata in aula, Enrico Mattei, uno dei più grandi italiani, strinse accordi con l'Unione Sovietica, proprio per rafforzare l'ENI, e per cercare di lavorare, come diceva sempre lui, nell'interesse del consumatore finale, che eravamo noi, siamo noi, insomma, eravamo noi cittadini italiani, il popolo italiano, strinse anche degli accordi in Iran, sfidò lo strapotere delle sette sorelle, evitò di mettersi sull'attenti quando pezzi grossi della Shell gli fecero a capire o ti allini o ti adegui o rischi, rischi alla tua azienda, probabilmente rischi anche tu, e lui evitò di mettersi sull'attenti, lavorò con l'Algeria in un periodo in cui l'Algeria giustamente lottava contro la Francia per la causa indipendentista, e per questo poi è stato assassinato, perché si è messo contro determinati poteri non grandi, fantasmagorici, importantissimi, ma guardate chi sono stati fondatori delle principali multinazionali del petrolio a livello mondiale, pensate alla Standard Oil, oggi come si chiama forse, vabbè non mi ricordo, ma comunque è la famiglia Rockefeller, guardate quali sono stati storicamente anche gli atti politici di governi americani o britannici su spinta delle grandi compagnie petrolifere, pensate al colpo di Stato in Iran che ha deposto Mossadegh che venne eletto, diciamo scelto in un certo senso, comunque eletto democraticamente il 1953 se non erro, reo di aver nazionalizzato l'industria petrolifera iraniana e la raffineria di Abadan che all'epoca era la raffineria più grande al mondo, guardate quanti colpi di Stato, quante sanzioni sono state imposte a quei paesi che hanno avuto il torto, che hanno usato nazionalizzare delle industrie, a cominciare l'industria petrolifera, pensate al Venezuela, che pensate alle sanzioni che siano state imposte al Venezuela per ragioni legate a diritti umani, o Gheddafi, che pensate che i bombardamenti sulla Libia del 2011, avallati anche dal ministro della difesa Ignazio Larussa, oggi seconda carica dello Stato, prepatria, l'Italia, fratelli d'Italia, quando poi hanno fatto avallando quella guerra gli interessi della Totala, di scapito dell'ENI, pensate che quel bombardamento avesse davvero a che fare con i diritti umani, con le condizioni disumane, senz'altro, dei prigionieri nelle carceri libiche, come se oggi invece vi fossero, non lo so, hotel a 5 stelle all'interno delle carceri libiche. Il punto è questo, il punto è che dovremmo inchiodare il governo, ripeto, dando alla Meloni del tempo che ha diritto ad avere, quello tra l'altro che non venne dato a Virgine Raggi, perché poi vi è trattamento e trattamento, la Meloni guardate come viene trattata dalla maggior parte, non da tutti, ma dalla maggior parte dei giornali, preferiscono attaccarla sul fascismo che appunto inchiodarla su determinate questioni. Non ricordo che alla Raggi sia stato garantito un tempo minimo per insediarsi, per fare delle scelte, magari anche delle scelte che all'inizio ha fatto non del tutto giuste, e non mi pare, anzi ricordo che venne crocifissa ancora prima che si insediasse, se non sbaglio proprio tra il primo e il secondo turno, ma al di là di questo la Meloni ha diritto, ha diritto a del tempo, hanno vinto le elezioni in maniera legittima, tra l'altro lo ricordo, l'ho ricordato l'altro giorno di martedì a Ricci, coloro che oggi parlano di vittoria mutilata, in un certo senso, perché la legge elettorale, perché grande astensionismo, senz'altro l'astensionismo è un'altra tragedia, ma tra l'altro ha a che fare appunto con un sentimento che provano tanti italiani che non si sentono rappresentati, il non voto è stato un non voto di protesta, anche un non voto politico in un certo senso, ma ci ricordiamo che la legge elettorale, il famoso Rosatellum con il quale si è votato sia nel 2018 che nelle ultime elezioni politiche, venne fatto dal Partito Democratico, votato da Lega sicuro, credo anche da Forza Italia, per andare contro gli interessi del Movimento 5 Stelle che all'epoca andava da solo senza alleanze, e la Meloni nel 2017 la legge fu portata in aula, neppure lo votò, per cui è un governo legittimo che ha tutto il diritto di governare, ma noi abbiamo tutto il diritto barra dovere di fare opposizione subito ricordando alla Meloni e al suo governo quelle che sono le urgenze, perché o si pone fine alla guerra in Ucraina e si trova un accordo, un negoziato, il che significa concedere qualcosa per ottenere qualcosa altro in cambio e la prima cosa da ottenere è il cessare del fuoco, o non se ne esce da questo dramma? Sono nove mesi che ci raccontano che più armi si sarebbe trasformata, la politica delle più armi in un negoziato più rapido, costringere Putin a sedersi al tavolo, quali sono i risultati? Si parla di escalation giorno dopo giorno sempre più, sempre più, si diceva che la Russia è iperisolata, guardate le dichiarazioni miei sogni a stare cinese fatte ieri o l'altro ieri se non erro, si diceva che grazie alle sanzioni ci sarebbero state mastodontiche manifestazioni popolari sotto al Cremlino, che l'economia russa sarebbe crollata, chi in questo paese ha osato confutare il pensiero dominante beccandosi insulti, diffamazioni, strumentalizzazioni, attacchi di ogni tipo, poi per carità io personalmente e tanti altri abbiamo le spalle larghe ma altri magari sono stati costretti al silenzio e non hanno aperto bocca per il timore di queste rappresaglie mediatiche, chi l'ha detto negli ultimi otto mesi, nove mesi guardate che andiamo a sbattere, guardate che l'Italia deve esercitare un altro ruolo, gli americani, i britannici già gli mandano le armi gli mandano all'Ucraina dal 2014 forse anche da qualche mese prima, figuriamoci, ma noi con la nostra Costituzione dovevamo diciamo a codarci al treno degli esportatori di democrazia a suon di bombe avallando tutte le strategie di Washington che ci guadagnano quando Macron o il ministro se non erro addirittura dell'economia francese dicono ma questi nostri alleati che ci vendono il gas liquido quattro volte il prezzo che poi impongono alle imprese americane non sono proprio amici ma scusate ma chi queste cose le dice da nove mesi ripeto beccandosi insulti di ogni tipo la strategia è fallimentare la Meloni perlomeno oggi a parole poi vedremo che cosa farà poteva dire qualcosa su l'esclusione dei russi da quell'intesa da quella di noi che stanno credo realizzando a Roma in questi giorni sulla proliferazione delle armi ma in un momento in cui serve distensione escludiamo la Russia da determinati consessi io sono contrario perché così non ne usciremo mai e ripeto io già non lo pensavo prima lo penso ancor meno con questi dati il 12% di inflazione a ottobre è una roba sconvolgente significa che gli stipendi hanno il potere di acquisto lo stiamo perdendo del tutto significa che non più milioni ma la maggior parte degli italiani hanno difficoltà ad arrivare a fine mese e poi qualcuno ancora come dire gioisce perché in effetti l'inverno non arriva io dico da un lato grazie a Dio poi vedremo le conseguenze di queste temperature fuori dal comune magari a giugno e luglio comunque diciamo grazie a Dio perché poi ci saranno i riscaldamenti qui a Roma ancora non li hanno accesi giustamente tra l'altro perché ieri facevano 27 gradi però rendiamoci conto di quel che ci hanno detto e rendiamoci conto che la Meloni va inchiodata va criticata va fatta opposizione su questa roba qua sul costo della vita che è determinato da speculazioni ma anche dalla guerra in Ucraina o meglio dalle speculazioni in acque torbide si pesca meglio successive alla guerra in Ucraina che non finiranno mai con un'Europa molto più divisa altra balla quando io dicevo guardate che l'Europa è molto più divisa di quello che sembra ma no scemo Putin ha unito come non mai l'Europa lo vedo lo vedo i risultati che hanno ottenuto tutte queste riunioni sul tetto del gas negli ultimi 3-4 mesi lo vedo lo vedo quant'è unita l'Europa che viene garantito a Tizio di fare in un modo a Caio di fare in un altro che la Germania si comporta in un modo la Francia in un altro che l'Italia non sa che fare chiamano Washington che dobbiamo fare i padroni di turno che dobbiamo fare andate dritti questa è la strategia siete una colonia avete perso la seconda guerra mondiale non stancateci questa è la realtà ma dalla Meloni non si aspetta qualcos'altro dai sovranisti non si aspetta qualcos'altro allora inchiodiamola su questo non su queste minchiate quotidiane che sono ripeto fanno parte di una strategia anche politica di alcuni partiti che non avendo la credibilità o la libertà di attaccarla o di fare delle proposte alternative rispetto alla gestione in Ucraina perché guardate come si sono comportati che Letta ha la possibilità di dire la gestione è stata sbagliata assolutamente no oggi il movimento si sta discostando anche dalle elezioni ben ben che io poi non dimentico che hanno votato i decreti appunto per l'invio di armi in Ucraina avranno cambiato idea grazie a Dio qualcuno gliel'ha detto da nove mesi grazie a Dio hanno cambiato idea a me va benissimo anzi mi auguro che tutti possano cambiare idea che il Partito Democratico possa cambiare idea mi auguro che Calenda Renzi possano cambiare idea mi auguro che la Meloni abbia il coraggio di cambiare idea e di contraddire se stessa anche alcune cose dette in campagna naturale ripeto per rassicurare determinati poteri forti ma io dico la battaglia contro il redio di cittadinanza si può migliorare per l'amor di Dio ma che l'inflazione il 12% queste tragedie hanno a che vedere con il redio di cittadinanza no però attaccare il redio di cittadinanza durante il discorso di insediamento è un messaggio che magari si dà confindustria questo è il tema messaggi su messaggi a poteri che contano in una situazione che nessuno osa affrontare che è catastrofica nel nostro paese e che la Meloni avrebbe ha il dovere di affrontare il prima possibile ma per affrontarla e tentare di risolverla occorre andare in discontinuità rispetto alle politiche che sono state adottate dall'ultimo governo dell'assembramento dell'ammocchiata selvaggia dello scena promiscuità di tanti partiti politici deve avere il coraggio ad oggi io leggo le dichiarazioni di Monti che dopo aver assistito al discorso di insediamento di una Meloni al Senato dice su molte cose andiamo d'accordo e si è astenuto sul voto di fiducia non è che ha votato contro si è astenuto questo ha dichiarato e mi ascolto la Fornero l'altro giorno in televisione io ero di martedì dire questo governo non avrà determinati spazi di manovra di autonomia politica e economica e non li avrà mai oltretutto con questa situazione da affrontare il punto centrale è la guerra in Ucraina non ve ne è un'altra per il futuro per il presente e per il futuro dell'Europa e soprattutto dell'Italia che è il paese insieme alla Germania che soffre di più l'abbiamo sempre detto che la strategia era fallimentare per l'Europa ma tragica per l'Italia o meglio io l'ho sempre detto e altri nel nostro paese l'hanno sempre detto mentre il coro dell'establishment elogiava Draghi gli faceva l'applauso quando parlava di debito buono debito cattivo tutto il mondo ce lo invidia questo presidente uno che è diventato presidente scusate per fare il presidente della Repubblica questa è la verità e poi ha trovato l'occasione di andarsene quando è stato trombato da presidente della Repubblica questa è la realtà poi vedremo quella che sarà la carriera ha fatto una carriera importantissima nella sua vita la carriera futura di Draghi tutti ad applaudirlo tutti a dire giusta la strategia guardate la Russia sta crollando guardate l'inflazione sta a 15% guardate Putin adesso deve scappare in Siberia con i cittadini russi che gli correranno dietro beh li vedo i risultati li vedo vola l'inflazione che sfiora il 12% valore più alto dal 40% in un mese i prezzi sono saliti del 3,5% spinti da alimentari ed energia il carrello della spesa aumenta del 12,7% Bust paga sempre più povere potere d'acquisto giù del 6,6% nei primi nove mesi dell'anno nei primi nove mesi dell'anno potere d'acquisto e poi dei problemi c'erano anche prima dell'invasione in effetti dell'Ucraina e della parte russa nei primi nove mesi dell'anno giù il potere d'acquisto del 6,6% significa una tassa soprattutto neanche più ai poveri che poi aumentano in maniera esponenziale una tassa agli italiani medi applicata da di fatto da scelte sbagliatissime del sistema politico e mediatico che ha avallato tutte le scelte sbagliatissime del sistema politico una tassa che non siamo in grado di pagare ma saremo costretti a pagare non so come tantissimi rinunciano ma guardate che c'è gente che già rinuncia a un pasto al giorno gente che sta evitando di fare delle cose che potevano essere indispensabili e vorrò vedere nei prossimi mesi persone che decideranno di non scaldarsi di non scaldarsi di non cucinare cose che avrebbero cucinato un tempo è una tragedia epocale e stiamo a parlare di scemenze che oltretutto fanno non soltanto male al paese ma neanche responsabilizzano adeguatamente un governo che ha il dovere di intervenire a mio modo di vedere ha il dovere di intervenire rispetto a questa tragedia andando in discontinuità rispetto alle scelte folli fatte durante l'epoca del governo e dell'assembramento grazie a tutti e condividete perché l'opposizione serve sempre è un dovere fare opposizione ma va fatta in maniera intelligente perché alle volte opporsi in un modo non solo ipocrita ma proprio sciocco è il regalo principale che si fa al governo mentre invece l'opposizione teoricamente dovrebbe servire come la stampa per migliorare le azioni di un governo un governo ha un bisogno necessario nell'ottica di fare del bene di ottenere risultati per la collettività un bisogno enorme di un'opposizione purché siano opposizioni vere vera non fittizia non di facciata non agli occhi di tigre Enrico Letta un'opposizione reale che possa inchiodare o banalmente più che inchiodare mettere davanti alle proprie responsabilità un governo legittimo neoeletto che deve intervenire al più presto andando contro anche cose che sono state dette in campagna elettorale altrimenti il paese muore grazie a tutti